Arrivare dal mare, ancora più che partire, ma arrivare dal mare, portarsi la casa e gli strumenti e compari musici e artisti, offrendo la propria arte preziosa e a puoi fare solo come una barca. È una meraviglia perché riesce a creare un teatro che si sposta, che fa sì che il pubblico, la gente che usufruisce, che partecipa al tuo spettacolo è lì per caso, spesso sei un regalo. E questo crea delle connessioni che sono speciali, non viene apposta sapendo cosa sta venendo a vedere. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.